Dario Nardella, sindaco di Firenze, esponente di primo piano del Partito Democratico, è stato parlamentare, ha rivestito anche ruoli importanti di direzione. Nardella, Enrico Letta è segretario da poco tempo, ci sono alle viste elezioni amministrative dove i partiti si confronteranno e si combatteranno, c'è un rapporto a livello di governo con un leader della Lega che sta un po' dentro, un po' fuori e non si sa bene che posizione prende, ecco, ci sono diverse aree anche all'interno del PD, cioè in queste scadenze, anche l'elezione del nuovo capo dello Stato, diciamo la segreteria Letta regge, reggerà o si ritornerà agli scontri che abbiamo visto? Anzitutto io sono felice dell'arrivo di Letta, lo sostengo e credo che sia partito con il piede giusto. Enrico Letta è un vero riformatore, lo ha dimostrato nella sua attività politica istituzionale del passato, credo che questi sette anni fuori dall'intossicazione, diciamo, di una certa politica nazionale gli abbiano fatto bene, è tornato a Roma in Italia con grande motivazione e da sindaco e iscritto al PD lo sostengo e credo che come Letta sia stato riformatore a livello politico istituzionale nel paese possa e debba esserlo dentro il partito. In questo senso il dialogo tra il segretario e i sindaci è fondamentale, perché questo nuovo partito che Letta sta disegnando, che parte dal basso, dove i circoli tornano ad essere protagonisti, aperto alla società civile, non può che vedere nei sindaci un pilastro fondamentale. Dobbiamo scrollarci di dosso questa immagine che i nostri cittadini hanno di un partito dell'establishment romano autoreferenziale. Letta può essere la persona giusta e credo che ora tutti noi dobbiamo aiutarlo. Partendo dai temi, ha fatto bene il segretario a porre la questione dell'identità del PD, ad esempio su battaglie come lo Ius Soli, Ius Culture, ma ha fatto ancora meglio quando ha posto il tema del lavoro. Il PD deve tornare a essere il partito del lavoro. Lavoro, lavoro, lavoro. Perché dopo il Covid il nostro paese si troverà con emergenze sociali e occupazionali mai viste prima negli ultimi decenni e noi non possiamo che essere il punto di riferimento per gli italiani per questa battaglia. Grazie.